Vuoi investire a leva sui principali indici europei? I leva fissa di Benpey Paribas permettono di investire a rialzo o ribasso con una leva fissa giornaliera che moltiplica per 5 o 7 volte la performance dei principali indici azionari europei Futsimib, DAX, Eurostoxx50 ed EurostoxxBank I leva fissa sono prodotti speculativi, adatti ai investitori esperti e quotati su borsa italiana Sono studiati per l'operatività di breve e brevissimo termine anche intraday e si adattano pertanto a strategie di trading o copertura del portafoglio I leva fissa daily sono caratterizzati da una leva fissa che moltiplica la performance giornaliera del sottostante Per esempio se acquisti un leva fissa daily long a 7x sull'indice Futsimib la performance giornaliera del sottostante viene moltiplicata a 7 volte Se nella seduta l'indice guadagna lo 0,5% il valore daily long a 7x cresce del 3,5% Il giorno successivo il calcolo delle performance ha come base la chiusura del giorno precedente Se il Futsimib sale dell'1% il valore daily long a 7x cresce del 7% La leva rimane quindi sempre fissa a 7x Questa modalità di funzionamento genera un effetto puramente matematico, il compounding effect L'effetto leva rimane fisso solo in relazione alle singole variazioni giornaliere di borsa Se si decide di mantenere in portafoglio il leva fissa per un periodo superiore alla singola seduta la performance registrata dal sottostante moltiplicata per la leva può differire in maniera significativa rispetto a quanto registrato dal leva fissa Per neutralizzare le conseguenze legate al compounding effect L'investitore dovrebbe rivedere all'inizio di ogni seduta borsistica la propria posizione riallineandola con la propria strategia di trading o di copertura desiderata È possibile investire a ribasso con il leva fissa daily short 7x In questo caso la performance del sottostante viene moltiplicata per meno 7 volte Se la performance giornaliera del sottostante è negativa del 2% il valore del leva fissa daily short 7x cresce del 14% Con il leva fissa daily long e con il leva fissa daily short vengono moltiplicati non solo i movimenti di mercato favorevoli alla posizione aperta ma anche quelli contrari In questo caso l'investitore subisce una perita amplificata dalla leva La gamma di leva fissa di Bempey Paribas è in continua evoluzione Scopri tutto visitando il sito www.prodottidiborsa.com All'app quotazioni di borsa o chiama all'892 40 43